popolo orsonero popolo del bandito milan lecce san siro caldo sotto tutti i punti di vista oggi giornata estiva un grande sole ad accogliere in milan e lecce qui dietro di me stadio san siro andiamo a vedere subito le formazioni ufficiali megnoni in porta calabria destra teo a sinistra centrali di difesa gabbia e tomori a centrocampo ad li e reinders a fare da filtro davanti alla difesa impostare il gioco attacco come da richiesta del bandito in settimana sto scherzando ovviamente ma era una cosa che avevo pensato è una cosa che sono felice il mister ovviamente non seguendo nessun mio consiglio ma insomma di averla pensata come lui sono contento ciucco a destra reao a sinistra pulisic al posto di loftucic ad agire tra il centrocampo e giru quindi posizione da numero 10 e ovviamente olivia giru lì davanti insomma adesso saliamo ho visto molti tifosi del lecce venendo qui ma insomma il nostro cuore è tutto rosso nero pronto a battere per il nostro milan e io sono qui pronto a raccontarvi le emozioni dalla curva sud di milan lecce un like al video iscrivetevi al canale mi raccomando campanella per le notifiche adesso andiamo al gate 14 si sale si arriva al solito posto in curva sud e poi solo un grido forza milan posto in curva sud di milan e qualità per la prima parte 5 torna per la prima parte 5 ascolto un attività in curva sud di 3 Grazie a tutti. 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 Un gol strepitoso dopo una grande azione di Ciupu, grande Milan, grande Pulisic. E qualcosa di calcio ne capisco, forza Milan! Grazie a tutti. 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 Esce Pulisicci, stendi il govescio per lui. Sì, stendi il govescio per lui.